Siamo Luca Vignali, primo obo del teatro dell'Opera di Roma. È la quarta volta che vengo a curare la preparazione dei concerti. È un'esperienza non solo per i ragazzi che seguo ma anche per me perché devo constatare che dalla prima volta in poi c'è sempre stato un miglioramento perché il gruppo che viene selezionato con delle audizioni per cui c'è già una selezione severa all'inizio del progetto e di ogni lavoro. Il punto del padre che va per il mondo. Si stanno affiattando sempre di più. E vedo un miglioramento costante proprio perché imparano a conoscersi e a collaborare fra di loro in maniera sempre più professionale che è la base del nostro lavoro. Quello che noi facciamo anche a livello più alto nelle orchestre e nelle fondazioni italiane e non solo perché non siamo solo italiani a curare il progetto ma ci sono anche musicisti stranieri. La seconda frase è vostra. Ok. 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 Ok.